È una nuova stazione di monitoraggio che misura i parametri del particolato fine PM2,5 e PM1 e ultra fine PM0,1 presente nell'atmosfera. L'obiettivo di supersito, così si chiama la centralina collocata presso l'area ricerca del CNR di Bologna, è di affinare le ricerche sull'inquinamento nell'aria e cogliere sempre meglio le ricadute sulla salute di chi la respira. L'Emilia Romagna, racchiusa com'è tra Alpi e Appennini, non facilita la dispersione delle polveri. Acquisire dunque nuove informazioni sulla composizione del particolato, oltre che sulle cause specifiche, permetterà di capire la correlazione tra le diverse particelle e l'incidenza di determinate patologie. Poter disporre di dati scientificamente molto raffinati e molto affidabili, registrati sul territorio regionale in un modo molto più avanzato di quello che si fa ordinariamente per rispettare i limiti di legge e che ci consentano di poter affrontare delle scelte riguardo alle condizioni ambientali e riguardo alla tutela della salute dei cittadini in un modo il più avanzato possibile. Grazie alla nuova centralina saranno disponibili dettagli chimici, fisici e tossicologici che normalmente non vengono monitorati. Spesso infatti l'analisi si ferma alla concentrazione delle polveri sottili PM10. Avremo una maggiore informazione sulla composizione e sulla struttura dimensionale del particolato e quindi dovremo riuscire a capire qualcosa di più sulla chimica, la fisica, dunque la tossicologia e dunque infine l'impatto sulla salute. Non è solo la massa che ci interessa, che facciamo già con la rete di monitoraggio istituzionale della qualità dell'aria, ci interessa andare più nel profondo. Il super sito che abbiamo messo in campo, formato da 5 stazioni di monitoraggio, ci darà facoltà di interpretare meglio tutti questi dati.